Tu, chi cazzo sei? Emanuele Brescia Sì, serio, eh? Scegli un numero da uno a otto Io preferirei davvero che tu evitassi di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te Se sei uno che apprezza cose che fanno largo uso di pelle, lubrificanti, lasvega Se anche l'altra persona le apprezza, purché si rispetti il quarto punto, allora dateci dentro Sei disposto ad accogliere e a venerare il sacro spaghetto volante? Sì Dimmi come vuoi essere chiamato Madame Farfalla la puttanese E io Prescovo di Prato Serre lasagna Della sagra pannocchia croccante di Prato Ti nomino Madame Farfalla la puttanese E in più Sono pasteggiato E in più Ti nomino Mio briacono personale E in più E in più Grazie.